Pronto? Ehi, ciao piccolina! Che stai facendo? E che sto facendo? Sto leggendo e mi sto rilassando. Senti cucciola, mi manderesti una foto tua? Ma non ho foto recenti. No, va bene, non importa. Mandami una vecchia. Una vecchia? Sì, va bene. Te la mando subito. Vediamo. E si... E che... E che... E che...